Ciao mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Si chiude un po' il primo grande blocco di sfide contro le squadre che lottano per l'Europa. Non che poi il Monza che arriverà dopo sarà una partita facile, però può essere almeno una partita sulla carta in cui tra giochi alla pari. Mentre tutte queste, io penso da quando sei arrivato tu, non so se c'è una squadra in Italia che ha avuto un calendario così complicato. Ecco, cosa hai detto ai ragazzi per rialzare anche la testa dopo quei sei punti sul campo forse meritati, che però con Fiorentina e Milan ne hanno portato solo uno. Quindi come hai lavorato in questa settimana e come sta nel complesso la squadra? La squadra sta bene, è arrabbiata, è incattivita al punto giusto. Non ti nego che non è stato facile ricominciare la settimana. Il primo giorno è stata dura per tutti, poi ho visto una grandissima reazione. in termini di volontà, di motivazione, volontà di non accettare la situazione. Per quanto riguarda il calendario, a me non è che mi piaccia tanto fare piagnina, però giro in andata e giro in ritorno, praticamente abbiamo giocato la Champions League. E quindi due volte in Milan, due volte in Atalanta. Senza il praticamente proprio. E quindi questo è, la cosa positiva è che fino a oggi siamo usciti, e lo stesso domani, siamo usciti con qualche rammarico, nel senso che poteva essere di più. Quindi la squadra è presente. Messaggero Veto e poi tutto di Neseo. Ciao, buongiorno Gabriel, ciao. Io arrivo sui protagonisti, perché chiaramente vado al punto. Come sta Pereira? E ti chiedo anche di Neuwen Perez, visto che è al centro di trattative di mercato, se ragazzo sarà disponibile, giocherà, e com'è anche a livello psicologico. Pereira sta bene, e quindi sarà della partita. Neuwen, onestamente, ho la presunzione di dirti che mi basta guardarlo negli occhi. E' presente, cattivo, è stato uno degli elementi trascinati della settimana. Tutto di Neseo. Buongiorno, mister. Ovviamente è stata una settimana molto particolare anche per quello che è successo, per quanto riguarda l'episodio di Meignan. Quindi volevo dire, volevo chiedere, come è cambiata la preparazione di questa settimana? Si è trovato anche una squadra dal punto di vista mentale diversa, soprattutto visto anche il periodo? Allora, credo che le parole giuste sono che personalmente, a livello di società e di squadra, siamo rimasti tutti colpiti e feriti di quello che è successo a Meignan. Reputo che la squalifica, così m'aggancio, data a noi sia estremamente pesante, in ottica di una città e di una società che credo siano esemplari, no, credo siano, sono esemplari in termini di multirazialità e di integrazione. E se basta che 5x persone vadano in uno stadio in maniera non organizzata, diventa tutto buono. Domani io e te si può andare a Bergamo? Se va a Bergamo domani, andiamo a Bergamo. Per dirne uno a caso, si comincia a urlare, punti, squalifiche, campi, diventa tutto buono. Se è una roba organizzata va ammazzata, se è una roba non è organizzata va ammazzata, va ammazzata nell'individuo, società non c'entra niente, squadra non c'entra niente. Cioè noi ci si gioca uno scontro diretto, tra virgolette, anche se il mondo è una situazione diversa, con una penalizzazione incredibile. Quindi, detto questo, ti aggiungo anche una piccola cosa, a livello personale, dicendoti che io quotidianamente, da anni, praticamente faccio, non posto, faccio, allenando da quando sono andato in Australia, per finire all'Inghilterra, per tornare qui in Italia, culture diverse, mentalità diverse, quindi uno dei motivi per cui sono l'Udinese è questo. Il rispetto per la diversità è un mio principio di vita, lo dico e chiudo, quindi non ho bisogno di far vedere. E credo che le parole usate alla società al fine partita erano più che sufficienti per quello che è successo. Quindi, avanti, dimmi. Prossime domande? Ancora qui, prego. Ne faccio ancora una io. L'Atalanta comunque arriva molto in forma. È una squadra che nella gara d'andata ha evidenziato un po' uno dei problemi principali dell'Udinese di quest'anno, cioè la gestione dei minuti finali. A me ha colpito molto le parole di Padelli in settimana, che ha detto praticamente che non è che si può lavorare tanto su questa cosa, perché è come se voi foste entrati in una sorta di loop, cioè che quando arriva quel momento quasi quasi te lo aspetti, cioè non è una roba che magari state cambiando in settimana. Quindi io volevo chiedere, per lavorare su quelle cose lì, siccome è difficile dal punto di vista tecnico sul campo, ha in mente magari qualche shock, qualche mossa shock, che possa un po' cambiare improvvisamente e magari anche dal punto di vista mentale per la squadra aiutarlo. Penso magari, non so, a un cambio di interpreti, un cambio di modulo, proprio in quei minuti lì, non in generale, perché a fine dell'Udinese, fino al 75esimo, gioca sempre la partita a modo suo e molte volte anche meglio rispetto all'avversario. Però a quei minuti lì ogni volta improvvisamente cambia. Ecco, volevo sapere questo. Sì, ora è il 75esimo, uno dello staff correrà nudo nel campo e quindi avremo questo break, questo shock, perché fisicamente non è nemmeno prestante. Ma allora, Daniele è un ragazzo intelligente e sensibile, quindi ciò che ha detto lo ha detto per un motivo. Io credo, l'altra volta avevo detto che non so se è allenabile, in realtà mi sono sbagliato, nel calcio tutto è allenabile. E noi ci siamo allenati al caos, che poi credo che è quello che contraddistingua quegli ultimi minuti finali, perché credo se vai a vedere i cambi sono stati fatti più in là possibile tante volte proprio per questo motivo. Quindi non credo sia un motivo di cambi. indubbiamente noi come staff e io in primis dobbiamo farci un esame di coscienza, non in senso negativo te lo dico, ma in senso andare a cercare il pelo nell'uovo per cercare di aiutare in un momento difficile. Quindi ci si allena, si parla, ci si allena, si prova a trovare soluzioni differenti. Io credo la medicina che l'abbiamo trovata questa settimana. Vediamo se è quella giusta. Telefrioli. Buongiorno, mi sento, torno un attimo ai singoli con due aggiornamenti, nel senso che alla fine poi i temi sono quelli. Aggiornamento quindi su Giannetti per capire in progress a che punto siamo arrivati, di disponibilità. Aggiornamento, fra virgolette, sulle gerarchie delle mezzali, perché a un certo punto lei non aveva negato di quanto Pagero effettivamente fosse in cima. L'Ovric ha saputo di guadagnarsi un posto, Samardic ultimamente ha rivissuto una fase da protagonista, quindi un aggiornamento delle gerarchie, se è giusto chiamarle così, in tal senso. Sì, sì, è corretto. Ho detto la parola che uso spesso, ragazzi. Giannetti sta bene, deve aspettare il suo momento. E quindi è una ruota, un episodio, una squalifica, un entrare in campo a mezz'ora dalla fine, dove dimostra, non che abbia bisogno di dimostrare, perché chiaramente è arrivato ora, però dove dimostra la parola giusta il suo peso specifico per la squadra, e poi sta a me dargli la chance. Per quanto riguarda le altre gerarchie che hai detto, è corretto. Pagero era nella gerarchia avanti a Samardic, poi Samardic secondo me ha fatto tre ottime partite per motivi diversi, e quindi vediamo, non ho ancora deciso in tal senso, ma le gerarchie se le creano loro, quando stanno in campo e dimostrano di volerci stare, o quando sono fuori entrano forte. Ti ho risposto? Sì. Più o meno? Più o meno. Vabbè. Prego, avanti, Udinese Blog. Ecco, grazie. Ah, scusa Stefano, non l'avevo visto. Torno un attimo sul problema, tra virgolette, mercato. Non sappiamo ancora come andrà con Perez, anche se sembra definita. Lei si aspetta qualcosa, o cosa ha parlato, cosa ha detto la società, che aspettative ci sono? Ma io non ho detto niente alla società, e non mi aspetto niente. Anche perché, siccome è un errore che ho già fatto, se ti aspetti e chiedi, sei poco concentrato su quello che devi fare. E ora noi abbiamo da prendere dei punti, da tornare da Bergamo con dei punti. Sapendo che l'Atalanta non ce li vorrà dare, quindi immagina quanta pressione abbiamo. messaggero a vento. Ti chiedo anche un aggiornamento sui singoli, nello specifico su Brenner, che avevi parlato di un minutaggio, che poi vorrei un aggiornamento. Come sta Davis? Allora, Davis settimana prossima rientra con noi finalmente. Credo sia un fatto di gestione per lui. Brenner è forte, è forte, è un ragazzo umile, è un ragazzo intelligente, che impara veloce. Anche lì, ti ripeto, alla fine si giocano 11 più 5 che entrano. Falli giocare tutti è dura, ma ti ripeto quello che ho detto, è forte. Chiaramente te lo dico, sapendo che un ragazzo ha una grande umiltà e dediziona lavoro, quindi non lo sto esaltando più del dovuto. TV 12 e poi chiudiamo con... Anche perché lo devi dimostrare, perché se io dico è forte, poi lui entra e scivola. Mister, approfitto di collegarmi, visto che si parla di attaccanti, io volevo sapere, tu che sei forse uno dei più grandi stimatori di Isaac Success, che cosa sta succedendo ad Isaac? E non parlo di prestazioni positive o negative, ma proprio del linguaggio del corpo, di quando entra, è un giocatore che quando sei arrivato di nuovo tu, si trascinava la squadra, a Monzo io me lo ricordo che andava a dar fastidio anche a Di Gregorio sul rinvio, ritornava 20 metri indietro, poi ho l'impressione che con quel rigore sbagliato, con l'Atalanta lui si è finito un po' in un tunnel, poi l'infortunio di Verona gli ha fatto perdere un po' il posto con Luca. È un ragazzo da recuperare mentalmente, perché adesso quello che appare è che non riesce a fare neanche più quello che riusciva a fare benissimo prima, ovvero mettere giù queste palle, proteggere, far salire la squadra, buttare la palla negli spazi per i compagni, come lo recuperiamo se è da recuperare? Perché magari poi tu mi dici no, sta benissimo, insomma, e quindi cambio. Allora, guarda, sono d'accordo con te su praticamente tutto, ad eccezione che non riesce a fare quello che sa fare meglio, perché io mi ricordo le prime due palle che arrivano e che tocca domenica, la stoppa col Bostic sul petto e fa partire Bosele, tutte e due fotocopia. Poi che non abbia la fluidità che aveva nelle prime due, tre, quattro settimane che sono arrivato io, è vero, è anche un... l'aspetto psicologico non è da sottovalutare, ma non credo che sia questa la motivazione, perché Isaac è un ragazzo forte di personalità, la rieputo più a un discorso fisico, che lui ha un motore molto delicato, ha avuto in carriera due infortuni che avrebbero fatto smettere chiunque, quindi il fatto di essere stato fermo, puoi riprendere, puoi rifermarsi, lo reputo più una situazione fisica e di condizione. Chiudiamo con Tuttinese. Mister, non puoi far giocare più di 11 giocatori, l'hai detto, davanti sono tanti, però c'è un Florian Tovain che cresce, Florian Tovain che tu hai detto è un fuoriclasse, uno dei miei fuoriclasse, ha bisogno anche di magari di partire dall'inizio, è un giocatore così? Eh lo so, ha bisogno di partire dall'inizio. Vuole partire dall'inizio? Sapesse quante cose ho bisogno io. Eh lo so, vedremo da accontentarlo, anche perché me lo ripete dalle 16 alle 18 volte al giorno, quindi non credo che sia un concetto chiaro quello. Tra l'altro è il suo compleanno oggi, quindi se gli vogliamo fare gli auguri tutti. Che ci faccia il regalo lui però. Grazie, grazie a tutti, buon lavoro. Grazie.